tra poco si parte per il negozio a prendere una nuova monster eye oppure a prendere il cambio di qualcuno vero ragazze già non vedo l'ora stiamo partendo siamo quasi arrivati eccoci al negozio bene eccoci dentro il negozio eccoci al negozio Allora, c'è Gigi, Twyla, Laguna, Laguna, Twyla, Gigi e Twyla. Poi c'è Clodin, festa in maschera, Frankie, Clodin, Frankie, questa chi è? Clodin, Clodin è Clodin, è sempre Clodin, poi c'è una Barbie, vabbè, e tutti i Barbie sono. Ecco qui, questo è il mio acquisto, ciao! Per chi interessa ci sono anche queste, il motorino di Puglia, questa qui, questa, bellissima. Il diario segreto, le calze, il diario segreto. Le brasterai sono qui, ci sono queste. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un commento mi piace e anche la pagina di Facebook, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, ciao! Sto tornando a casa e a casa vi farò il suo unboxing. Laguna Blu!